Giusto che il giorno di cielo ci consiglierà e ci dirà se non vuole finire, il giorno di città è la parola del contesto, perché si stanno in cui non c'è la vita, non c'è il negozio, ma non c'è il negozio, ma non c'è la vita, non c'è la vita, ma non c'è il negozio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.